Finalmente è uscito, Eggie Party Questo gioco io lo aspetto da tipo un anno, un anno e mezzo E dovrebbe essere il nuovo StumbleGuys Anzi, meglio di StumbleGuys e meglio di FallGuys La combo di entrambi i giochi messa in un gioco mobile Con una valanga di mappe, personalizzazione estrema Personaggini troppo carini E mappe assurde, cose 3D, personalizzazione di case E' un misto, c'erano così tante cose Io l'ultima volta che l'ho provato è stato tipo un anno fa Quindi sarà cambiato qualcosa E' disponibile su Android, iOS in modo gratuito per tutti Primo in classifica, tra giochi gratuiti Quindi è uscito ieri, si è uscito ieri Quindi molto nuovo Pesa un po' di gigabyte Ma dovrebbe essere bello Quindi io adesso ho un po' di aspettative Quindi lo proveremo Like perché il gioco è uscito ieri Chi riporta il video l'indomani Cioè mamma mia che professionalità Ho consentito le notifiche Mamma mia che cosa ho fatto Ci dovrebbero essere video fantastici Cose fantastiche Eccoci qua Ello io sono il tuo assistente Yojo E' scritto in inglese Perché credo che si possa cambiare dopo Vi ricordo di andare a seguire su Stankiri Sto regalando dei pass di Brawl se vi interessa Posso scegliere se essere una Eggie o un Eggie Allora sono entrambi carini Ma io preferisco il giallo Quindi io preferisco il giallo Possiamo personalizzare tutto Gli occhi Questo qua è tipo un ladro Bellissimo Questo qua sono io un clown Ok c'è il colore della faccia Bellissimo Lascio questo Come faccina Metterei Che bello raga Troppo bella sta personalizzazione O questo Mettiamo questo che è molto caruccio Possiamo mettere pure i vestiti belli O azzurro Bello azzurro Però giallo Giallo ci sta pure Però azzurro Forse nero Ma nero raga è un botto elegante Quindi magari ci sta meglio nero Vabbè Ma comunque si può cambiare tutto dopo Per ora mettiamo giallo Come giusto che sia Preview Ah ecco qua Guarda qua Ok come sarebbe Vabbè facciamo next E diciamo che non è cambiato niente Cioè è rimasto uguale Però mi piace così Io voglio le skin Perché si possono sciupare le skin E c'è una personalizzazione raga Che non ha uguali E' un po' Cute Stile Genshin Impact Sotto alcuni aspetti Io non ho mai giocato a Genshin Impact L'ho scaricato Però Vabbè eccoci qua Proviamo Vediamo cosa Cosa succede Dovrebbe essere pesante Quindi non so se tutti i vostri dispositivi Lo supportano Però eccoci qua Allora Questo è il mio personaggino Mi dice che gli fps Pur in alto a sinistra Ah ecco qua Il tutorial Perfetto Così Muoviamo la visuale Easy proprio Si capisce benissimo Posso girare tutto Ok Ah e da qua si parte Questa è la gara Che bello raga Grafica che è migliore di Fall Guys E di Stumble Guys Una grafica assurda E vi ricordo che è disponibile Solo per mobile Quindi non si può giocare Né da PC Da nessun'altra parte Solo per mobile Con una grafica assurda Eh sì Sono arrivati i competitor Di Supercell Così si salta Voglio fare Cioè raga Ha dei movimenti assurdi Dei movimenti assurdi Possiamo pure spostare la palla E tirare Io adesso ho sbagliato Perché dovevo fare il tuffo Quindi così Ecco qua Bello E si apre il passaggio Ok Qua metto qui Che cosa devo fare Cosa devo fare Mi sto confondendo Ok Ora devo spostare la palla Dal lato giusto La devo portare qui Ok E che succede Ah no Devo lanciarla Allora ok E mi tuffo Ok salto e mi tuffo Un po' come Fall Guys Raga Non c'è il doppio salto Come Fall Guys Come Stumble Che devi fare così Ma c'è il tuffo Ok perfetto Ora posso rotolare Tipo raga Anzi è meglio di Fall Guys Posso rotolare Solo che questo qua Di base si può fare Bellissimo E c'è un timer giustamente Ci sono i boss Ci sono un botto di modalità Proveremo tutto Potremmo pure schippare Ma meglio capire come si gioca Ok Mi avvicino qua Prendo il pesce E posso lanciarglielo Ma raga Ma che criminale che sono Posso lanciare i pesci Ah no Che grafica assurda Raga E si è aperto questo passaggio Ditemi che non è un bel gioco Cioè è fantastico È fantastico Ok Posso pure Raccogliere gli oggetti E posizionarli qua Allora è come Fall Guys È fatto meglio Perché è su mobile Ed è fatto benissimo Quindi speriamo che questo gioco Vada bene Siamo arrivati alla fine Easy Bello 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 Mi piace un botto come gioco Delle grafiche assurde Si ispira palesemente a Fall Guys Ma è su mobile È su mobile Ed è fatto meglio Allora io metterei Lasciamo così Non cambiamo niente Ok Maschio Italia Il nome spero si possa cambiare Ok si può cambiare Eccoci qua Mettiamo Kirri Momento storico Kirri C'è alcuni testi Ancora in cinese In cirillico Non lo so Però è tipo un ticket Italia non so se è giusto Kirri Ok Il mio ticket Bellissimo Guarda qua che animazioni Che frame laggano Di quanto sono fighe Ma guarda che skin Che c'hanno questi Ah e c'è pure la top Capisci Quindi se sei un pro player Compari nell'animazione iniziale Questa è la gara Rainbow Rush Bello 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 Certo è strano Perché c'è un tutorial In un gioco mobile Cioè di solito Nel giochi mobile Non ci sono tutorial così lunghi Però Ok Guarda qua come partono tutti pazzi Sono pazzi raga Ok Che figo Ma vi rendete conto Che figata Possiamo pigliare Allora Non capisco alcune Ho una scarpa Ho una gara Posso Lo usate e vado più veloce Che assurdità Che assurdità Non ho preso la scarpa Ok Ok No no Mi sono perso delle scarpe Devo vedere la Ok Ho preso la scarpa Accelero Posso fare dei salti assurdi Prendo di nuovo Mamma mia raga Che bellezza Che bellezza E sto giocando pure da Da ipad Da telefono secondo me È più semplice Sono velocissimo Guarda qua Bisogna stare attenti a non cadere Però comunque Deve essere proprio scarso Per cadere Guarda qua che cado subito io Pallina per rotolare Giampettino Easy win Il king di Eggie party È arrivato Kiri Number one C'è sto robottino Che ci permette di vedere La modalità fantasma Quindi spettiamo Raga ma è fatto benissimo E possiamo pure mettere Ah io ho mandato l'amicizia Per sbaglio Io ho messo like E posso muovermi Tra i vari concorrenti Next stage Per skippare la visione Questo immagino sia un tutorial Quindi possiamo skippare Però di solito Bisogna aspettare Box jumps Che mappe assurde Stage 2 È fatto benissimo No raga mi piace un botto a me Mi piace davvero un botto Sappiate che Oh Qua si può cadere Ma che figa Ok La palla all'inizio Secondo me è forte Ho preso un pezzo di latte Ho preso del latte Che mi fa piccolino No raga ma che graficaccia Ma meglio di Fall Guys Ma ve lo giuro Oh Posso lanciare una dinamite Ho messo una bomba qua sopra È tipo Ok Tipo Fall Guys Tipo Fall Guys Palesemente uguale Qua ci È un tubo gigantesco Io metto la palla Così vado più veloce Vado sopra il tubo Sperando di non cadere Ok E Cosa bisogna fare Sono confuso Ok Latte Non so se diventando più piccolo Vado più veloce Però Guarda che salti Che fa Kiri Raga number one No 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 Ok Non so se dovevo Buttare giù qualcosa Tipo questo Esatto Dovevo buttare giù la scatola Vai vai tira Spingi Kiri Bellissimo Aspettatevi tanti video Io spero che vada bene sto gioco Aspetta Piglio il pesce Pesce Aspetta Toi toi Voglio dare un paio Pesce in faccia No Vabbè Mi qualifico Meglio non rischiare Bellissimo raga Bellissimo Ti consiglio di scaricarlo È gratis Ed è veramente figo Gioco ai livelli di quelli Supercell Io l'ho detto L'ho detto Ma in ambito di qualità Livello Supercell Se non oltre Cioè Guardate Avete visto la grafica Avete visto la grafica Io ci ho puntato Fin dal primo giorno In questo video Forse ci ho fatto pure dei vizi Ci ho fatto dei video Nella beta Ho fatto forse un tiktok Questo qua Chi colora di più Bello 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 Quindi chi colora di più Alcuni giochi sono uguali a quelli di Fall Guys Altri uguali a Stumble Guys Altri sono totalmente nuovi Però Ecco il team blu Ma mi ha rubato questo qua È pazzesco Possiamo rubare le persone Non fatelo nella vita reale Per cortesia Perché Non mi sembra una cosa saggia da fare Però nel gioco potete rubare chi volete Cioè ma in tutti i sensi Qua mi aveva preso in aria Non so come ha fatto Stiamo vincendo in una maniera allucinogena Io rimango sopra Eccolo guarda là Guarda quell'essere in grado No no Devo recuperare tutto Metto la pallina Prendo il pesce raga Faccio Do fastidio col pesce adesso Do fastidio col pesce Magari non al mio compagno Che Ok Possiamo lanciare granate Che bello Io do un pesce in faccia Pesce Ehi L'ho lanciato giù Eeeh Pesce in faccia L'ho lanciato giù Che bello Un teletrasporto Ma che sto vedendo Questo qua che mi permette Teletrasporto No raga ma sono caduto Don't worry Se cade i respawni Ok mi pare più che giusto Più che corretto Vado un attimo qua sotto Voglio provare a rubare una persona Perché Cioè non mi capita tutti i giorni Di rubare la gente Cioè a voi capita tutti i giorni L'ho rubato Ma sei liberato L'ho rubato Ma sei liberato Eeeh Aiuto E' un po' difficile Qua posso mettere una jump Che Ma raga ma è fatto da Ma è bellissimo Gioco che merita Io vi consiglio di provarlo Ho lanciato una bomb Bellissimo Stiamo vincendo in una maniera assurda Non so Vi giuro Sono ripetitivo Lo so Sto dicendo di continuo Bellissimo E' proprio bellissimo Stage clear Pulito Livello pulito Completato Bello Parole sono in italiano Altre meno Però Noi siamo International Lo capiamo l'inglese 8 player Durano di più di Istanbul Guys Ma è bellissimo Cioè è È Fall Guys Guarda che grafica Che animazioni È Fall Guys Su mobile Infatti potrebbe essere pure Fall Guys su mobile Magari l'hanno L'hanno creato loro Ma no No non è Non è di Big Games Stage 4 Dobbiamo picchiarci Praticamente Bomba di party Che cos'è Ah Statemi lontani Ah sono la bomba Devo Devo esplodere accanto a qualcuno Ah devo fare danno Ok Quindi mi posso trasformare In una bomba E fare danni Bello Metto una mina qui C'è un fantasma Ma raga ma io Io vedo cosa assurde Io ho lanciato una Una bullying Gli sparo Ma che è fatto benissimo Vediamo se lo riesco a prendere L'ho preso Ma raga ma sono Ma qua siamo su Brawl Stars Mi mette pure le animazioni Divento una bomba Mi avvicino a questi due pazzi Oh Niente Gli ho fatto forse poco danno Ora parto di granate assurde Sì raga È diventato tipo un Un 1v1 Uno scontro Ambiguo Palla da bullying L'ho lanciata E forse se cadiamo moriamo Se cadiamo moriamo raga Mi trasformo in una bomba E niente Non l'ho preso No 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 Ho rischiato Ho rischiato Ho voluto fare troppo Mi prendo sta Dinami Sta bomba E gliela lancio a quello Ho perso un po' Aiuto ho rischiato Sto perdendo un po' di vite Però se Oh la batteria Ah la batteria mi ricarica la vita OP Letteralmente OP Metto una bomba da bullying Questo che cosa fa? Mi fa volare Ho il jetpack Assurdo E divento una bomba E divento una bomba L'ho preso L'ho preso No Siamo collegati col bluetooth Bomba da bullying Lo ita Che bello raga E' fatto benissimo Poi si può E' un po' complesso Non è semplice come gioco Però è bellissimo Ok Metto una bomba qui Lo inseguo Lo inseguo Vi è qua Vi è qua L'ho danneggiato Ottimo Lancio mine No la bomba l'ha pigliata lui Lancio un'altra mina Ok Ho messo mine ovunque Dai che forse E pian piano cade pure il terreno Oh il pesce Ma è caduto 1v1 Ho vinto Ho vinto Ho vinto Mamma mia Il king di Eggie Party Eccomi qua Presentissimo Ho vinto Andate mi assicuri Su Stanchieri Raga c'è Merita MVP Bellissimo Gioco Stupendo Guardate tutti che fanno Gli balletti Kawaii Uh 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 Kirri Eccomi qua Con nomino assurdo Tipo clash mini Siamo di Siamo di un pacchetto Tipo clash mini Ma raga Date Dove posso comprare Tutti questi oggetti Ok Main lobby Sono un po' confuso Ma Allo stesso tempo Amo questo gioco Esistono le lobby Tipo quelle di Brawl Stars Giappone O cina Quelle le in 3d Quindi la lobby È questa Questo è il negozio Mamma mia Quante cose Oh un tutorial Dura un quarto d'ora Giorni di ricompense Quindi ci hanno dato Degli outfit Ricompense giornaliere Otteniamo le ricompense Giorno 2 Ok quindi Ogni giorno Otteniamo qualcosa Mi ottengo tutto quanto Ora abbiamo qua Mystery Che è St'altra cosa No lo shop Posso Non ci credo Posso prendere Un qualcosa Ho preso Quella Quella scatolina Vediamo cosa è caduta Unboxing Unboxing più grande d'Italia Spacchettiamo Congratulazioni Ho ottenuto una magliettina Grazie Grazie Ok Posso fare altri try Però va bene Qua il leoncino Che belli che sono Qua non ho monetino Ovviamente Qua Sono delle skin assurde Skin popo Giapponesi Classiche Qua abbiamo altre cose Che è la t-shirt Me la equipaggio I pantaloncini Bellissimo Raga Sembra Uno scappato di casa Però Ok Posso Ok ho fatto ricerca partita E nel frattempo Che siamo nella lobby Posso giocare Cioè posso camminare Posso fare tutto quello che voglio Esistono le macchine Ma raga È un giocone Assurdo Posso guidare la macchina Ma che stai dicendo Ma Ah vabbè Partita È partita la partita Gioco assurdo Gioco letteralmente Assurdo Io spero che altri creator Lo porti Non so Crax Sparks Tutti quanti Provate questo gran bel gioco Sparks ci ha fatto già qualche video Bravo L'unico problema è che Già mi è comparsa la stessa mappa Sta cosa mi dà un po' fastidio Io vi ricordo che qua potete buttarvi Magari faccio un video Trick iniziali per vincere sempre Che ho Allora io non vado al centro Perché ci andranno tutti Qua bisogna prendere subito Un oggettino Ok Vado e accelero Prendo quello Non ce l'ho fatta Salto salto Doppio salto Prendo questo qua sulla sinistra No No bro No bro no 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 Si manca a fa così Ma manca a fa così Ok devo tragiardare Quello lì è il tutorial Quindi forse per questo è andato bene Prendo la speedy di qua Anche se è rischiosa Accelero 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 Spostatevi Levatevi Ok la palla è pure molto buona La palla è OP La palla OP Palla letteralmente OP L'hanno presa loro Quella lì ok Devo saltare Attento a non più a ste cose Accelerazione Ottimo Qua saltellino Però di qualificare Aiuto che rischio Bisogna vedere Cambiare sempre la visuale Ok Vado di palla Easy qualificazione Quinti dai dai Ci sta Ovviamente qua non si può schippare Perché siamo online Quello di dire il test Eravamo con dei bot praticamente E mi sembra che c'è pure la chat di gioco Quindi mentre i giochi c'è la chat online Io sono confuso Io sono confuso Però boh Vedremo Questo è la prima volta Bello Nuova mappa Come al solito Noi partiamo dal basso Da qua Come dei veri pro player E si parte Ovviamente non si può partire con Che figo È tipo tutto musicale Allora Che bellezza Che be No ma raga ma esplodiamo Allora Già partiamo un attimo Confusi Ok Qua c'è una jumperina Mi tuffo Mamma mia che proagine La mia Che proagine Salto qua Ok sono rimbalzosi Ho piato un polipo Che Ah ok oscura La telecamera Allora Vado da questo lato Che mi sembra la cosa più sensata Uno Due Aiuto Tre So passando dal cerchio Mi tuffo Buono raga Un pro player Mi chiamano pro player Salto qui E che succede Ah qua si rimbalza tutto Si rimbalza tutto Posso prendere una scatola Non posso prendere la scatola Mi trasformo in una palla E so caduto giù Dai Ok così va bene Dai comunque questo livello È abbastanza semplice Una classica raise Scommetto che è pieno di trick Però Oh abbiamo pure l'emoticon Vediamo Si può ballare Bellissimo Vabbè noi ci qualifichiamo Nel dubbio Bello Anche questa qui è nuova Abbiamo la chat La chat vocale però di base È disattivata Mi sembra Ok Guardate che grafiche Qua cambiano tutto E qua possiamo passare Delle volte sì Delle volte no Qua è pieno di cubetti Ok bisogna stare attenti Perché qua girano sempre le cose Perfetto Guarda qua che dettagli Si possono qualificare solo 8 persone Quindi ho 3 yarding puro Ok Qua ci avvisa che girano Quindi potremmo cadere Io mi prendo sto cubo Che non so che cosa sia Ah mi perm... Raga ma siamo su Fortnite Siamo su Fortnite Guarda... Mamma mia Vabbè Meglio che forse non era davvero utile Però comunque Potevamo costruire tipo su Fortnite Sono terzo Qua ha preso il teletrasporto Mi sa Non lo so cosa ha preso Ok Oh raga so primo So diventato primo Aiuto Aiuto che è successo Vabbè Easy Clean Proprio pulito Possiamo vedere pure tutte le persone Che ci sono in lobby Bello raga Molto bello Crazy time Siamo in finale Aiuto Che cos'è questa Scegli la tua skill È buono è solo una raga Quindi devo scegliere La bomba Equipaggia Che peccato Però è tipo un trasportatore Che bisogna fare Ma guarda questi qua Sono tutti dei pazzi Abbiamo sempre la vita Nella finale abbiamo sempre la vita Quindi possiamo sia attaccarci a vicenda Ma soprattutto possiamo Dobbiamo stare attenti a non rimbalzare Con sti cosi Vediamo se rimbalzi tanto Eh si rimbalzi tanto Quindi bisogna stare attenti Se diventi una bomba Fai esplodere tutti E li fai cadere giù Anzi no Gli fai danno e basta Di base Quindi state attenti alle bombe Secondo me è una tecnica buona È rimanere tanto indietro Perché tanto comunque Deve essere proprio stupido A cadere qui Dopo la Cosa c'è là sotto Forse Facciamo avanti e indietro E io ho in continuazione la bomba Quindi non Non so il perché Ho fatto dei bei danni Ma allora Forse stare in mezzo È la cosa migliore E adesso che arriviamo qua Ah ci sono delle mine raga Ma che sto vedendo Prendo il pesce Che è la cosa più forte Tanti bevescioloni Pure le mine No ho fatto un po' di cose brutte Allora io metto Qua una jump pad Dai Forse è caduto No no raga Era pronto per cadere Gli metto una bomba qui Guarda che li faccio cadere A questo a questo Ok L'ho fatto cadere L'ho eliminato Ottimo E quindi ok Si fa avanti e indietro E poi ci sono delle abilità Che compaiono in mezzo alla mappa Tipo una bowling ball Che lancio verso di là E ho preso uno Due Un po' di gente ho preso No no La ball La ball La ball Ok Sono diventato una bomba Ma esplodete tutti quanti Venite qua Questo qua Ok L'ho fatto esplodere Che bello Il pesce Devo pigliare i pesci Anzi no Pillo prima questo Prendo la palla La lancio di là Il pesce Puh Pesce in faccia Via qua Via qua Via qua No niente raga Sto sbagliando tutto Pesce in faccia L'ho fatto cadere Non ci credo Ma so fortissimo Chi ricompare pure Che l'ho eliminato Ok qua gli faccio fare Altri danni Pesce in faccia Via qua Via qua L'ho fatto cadere giù Mamma mia che forte che sono Ma li sto chillando tutti io Pesce in faccia Niente ho finito Mi prendo la mina Prendo la mina Prendo la mina Ce la farò Non ce la faccio Ok divento una palla E improvvisamente esplodo Esplodo Ok Il latte Mi sembra che mi fa diventare piccolo Metto una jumperina Tipo qua Ho messo la jumperina Là anche se è un po' rischiosa Oh diventa sempre più veloce Qua la situazione cambia raga Via qua Via qua Niente non era nel raggio Però Mamma mia Ma l'ho fatto volare via Ho vinto Ma Ma chiamatemi pro player Di eggy party Chiamatemi pro player Di eggy party MVP Con questa magliettina E scarponcini Mamma mia Detto ciò Eccoci tornati in lobby Io spero che questo video Si è piaciuto Mi raccomando un bel like Iscrizione Campanellina Vorrei vedere i video Che sono appena apparsi qua accanto Che sono più veloce dell'altro E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Lasciami giù Tu ma che cosa vuoi E noi ci vediamo in un prossimo video